E ora siamo alla scoperta degli animali feroci Aspetta vuoi guardare qui, vuoi guardare qui Dobbiamo seguire le formiche Che nel video non si vedono Stanno proprio a questo punto e si dirigono verso... Prendiamole sono ricche di proteine Che buona Che schifo Guarda questa è uno stinco di maiale Che schifo Ma è ricco di proteine, prendiamolo No, prima devi prendere quello là, il signore No, dobbiamo aiutare questi nel là E sto ancora aspettando, poverino Lo dobbiamo aiutare Oh, ci sono i verni Siamo qui Nell'insugherata E stiamo Facendo un video su come sopravvivere A Roma Nell'insugherata Amore, ma che cos'è questa parte? Nell'insugherata? Sì Ma come ho il tetorrito? Avete sentito? Avete sentito? Ma amore, guarda Guardate Questa È la tana Del lupo mannagio Che cazzo? Che cazzo? Amore, prendi le spine che sono punto di non sopravvivenza Guardate queste spine Sono molto buzzicose Quando avete la diarrea potete strappare queste spine e mangiarle Avanti amore Alza i pantaloni però Amore, stiamo facendo un video professionale Guardate com'è difficile scalare questa montagna Oddio Amore, vieni Ehi, non mi riprendere Tu amore, sei beer grills Forza, scala Guardate quanto è alto Siamo proprio in alto Tu amore, hai un pezzoletto? Sì, no amore Non abbiamo Ora noi dobbiamo ancora arrivare Non ci sono superstiti È proprio sferduto Siamo solo noi due Non ci sono superstiti Andiamo in quella via? Sì, andiamo Attenzione Questi sono i sedimenti Tutti erricciosi È troppo alto, non ce la faremo mai Può essere che moriremo Faccio il video bene amore Hai ragione Ma perché c'ha lo zoom? Allora, guardate qui Abbiamo appena trovato dell'erba cutanea Dell'erba che? Fa molto bene alla pelle Mangiamola Lei è mangiata? Sì Facci vedere Ok, andiamo La salita è ancora lunga E c'è ancora il sole che sta per tramontare E noi siamo ancora qui E dobbiamo costruirci una capanna Se no dove dormiremo E mangeremo le vipere Ma anche i rospi I giurini sono piccoli No, i rospi, quelli già cresciuti Che schifo Guarda che i rospi sono velenosi eh Sanno qua Sì ma gli togliamo la parte velenosa Perché qua è la parte sana E qua è la parte velenosa Andiamo forza Dun 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 Andiamo a vedere che c'è per quella via Non ci sono mai andato manco io Ehhh Questa è una sfida Guardate Il corpo di una busta Si vede che qui c'è stata Guarda qui c'è un capello Qui Hanno rasato una persona Cos'è questo? Guardate Qui c'è stata l'anima viva No non è vero Che cosa c'è? Ma non si vede niente Ma le fai pausa quando... Ma non si vede niente